Il nuovo arrivato dal Padova, dodicesimo del secondo tempo, il Messina sfonda sulla destra, salvo protagonista di un'ottima prestazione. Plescia ne è entrato, difende in mezzo a quattro questo pallone, poi arriva Zunno per il tocco vincente, il secondo gol delle ultime tre partite per l'esterno in prestito dalla Cremonese. Un rimpallo che favorisce Plescia, poi è bravissimo lui a usare tutta la sua struttura fisica a difendere questo pallone, a scaricarlo all'indietro.